Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Oggi, Marco, volevamo parlare di una scappa che arriverà il 19 marzo. È già uscita in anteprima, mi sembra, il 15 febbraio per alcuni Nike Plus members. Noi non eravamo tra quelli. Comunque, il suo prezzo è di 120 euro ed è una grande rivoluzione. Probabilmente una delle sneakers più interessanti fatte da Nike, uno dei modelli di Nike più interessanti degli ultimi dieci anni, penso. Uscirà, come ho detto, il 19 marzo. Stiamo parlando delle Nike Go Fly Ease. Fa parte del Fly Ease program che è partito nel 2015 e aiuta, diciamo, è sviluppato per rendere, diciamo, facile calzare scarpe per tutti. Quindi con persone anche con disabilità o comunque con problemi motori per abbassarsi o anche allacciarsi le scarpe, è un programma appunto che aiuta tutte queste persone e comunque sviluppa delle tecnologie che sono comode, diciamolo, per tutti. Qua questa è veramente interessante come modello. La scarpa è stata disegnata da Toby Atfield, che è il fratello, se non sbaglio, Marco, di Thinker. Giusto? Confermi. Anche lui un designer. Per Nike? Sì. Bene. Come vedete nell'immagine la scarpa è particolare. Si alza come su un tacco quando è aperta, quando non è inserita nel piede, quindi è come se fosse veramente su dei tacchi. Il piede si infila con un angolo quasi di 45 gradi e si inserisce il tallone, una volta inserito nella scarpa, fa chiudere la scarpa, quindi fa abbassare la scarpa e fa chiudere e bloccare la scarpa su se stessa. Penso che il fit, Marco, sia un fit stretto. Non avendo lacci, non avendo string, deve essere bella aderente al piede quando è chiusa. Ovviamente non è una scarpa da performance shoot, quindi non è una scarpa da corso, non è una scarpa da running, ma è una scarpa, penso, un po' più per lifestyle. Ecco, quindi il fit è stretto, ma non quel livello di stretto, quello che penso io. Poi quando l'avrò in mano, se l'avrò in mano, vi faremo un bel unboxing, una bella review. Poi per sfilarla è molto semplice, c'è un pad, una specie di pedalino sul tallone della scarpa e con l'altro piede, come facciamo tutti il 90% delle volte, andiamo a dare pressione al tallone dell'altra scarpa e la si sfila in maniera veramente, veramente semplice, senza abbassarsi, senza usare mani o quant'altro. Veramente, stando in piedi, la si sfila, si mette. Vedi più ready to go shoot di questa, Marco? Stavo parlando proprio nell'altro video di scarpe ready to go, quindi da buttar su, pronti via, ci metti poco tempo a inserirle, prendi e vai, questa, se dovessi averla, è fantastica. L'idea è veramente fantastica, lo studio e il lavoro che c'è stato dietro è un lavoro incredibile, anche proprio le tecnologie dell'ingegneria che c'è voluta dentro, dietro questa scarpa, questo modello, è qualcosa di impressionante. Il design, a mio avviso, può essere un po' rivisto, migliorato, diciamo, come estetica della scarpa, è un parere personale, ragazzi, non prendetevi, è un parere mio personale. Come modello, assomiglia un po', ricordo un po', secondo me, le sock dart, le Nike sock dart, un po' riviste. Ha delle peculiarità questa scarpa e quindi, veramente, grande lavoro ingegneristico dalla midsole, che è dovuta essere separata in due, una midsole separata, che deve resistere comunque a tante aperture e chiusure, quindi è fatta con questa specie di VV, di modello AV nella midsole. Veramente, grande lavoro, grande studio, complimenti. Piccolo fan fact, piccola ciliegina sulla torta, Jimmy Fallon, non so se lo conosci, Marco, in America. Lo conosco perché me lo nomino io. Perché te lo nomino io, ultimamente. Vabbè, al talk show, ha avuto un'idea. Lui ha dei contatti con Nike, ma ha avuto un'idea, aveva creato questa Step Lock, una scarpa, aveva una sua idea su una scarpa, aveva creato, l'aveva chiamata Step Lock, aveva parlato con dei ragazzi, i suoi amici in Nike e Nike aveva consentito a dargli un appuntamento. Il designer team di Nike è andato da lui, si è incontrato con lui e gli ha fatto vedere la sua idea. Consisteva in una scarpa tagliata qui, la Dunk, aperta e chiusa, gli faceva vedere com'era la sua idea. La scarpa aperta, tu inserisci il piede, la scarpa si chiude con il tallone che pressa e si blocca in posizione. L'aveva chiamata Step Lock, gli aveva fatto vedere i disegni, gli aveva fatto vedere tutte le sue idee. Grande idea, gli hanno detto quelle di Nike, ma Jimmy ci stiamo lavorando già noi da dieci anni. Quindi diciamo, idea premiata, ma ci stavano già lavorando, quelle di Nike erano già avanti. Poi simpaticamente Nike ha inviato a Jimmy uno special box con dentro una delle prime Nike Go Fly Ease uscite dalla fabbrica. e lo special box raffigurava tutti i disegnini del suo prototipo che aveva disegnato e aveva presentato a Nike. Beh, questo Marco ci aiuta a capire che comunque Nike è sempre sul pezzo, continua a evolversi, continua a migliorare le proprie tecnologie, i propri design anche in funzione di persone che magari hanno un po' più di difficoltà motori o comunque migliora la vita di tutti i giorni, sia nostra, che ci mettiamo sicuramente meno tempo a mettere le scarpe, ma per chi veramente tempo ce ne mette a inserire. Siamo solo pigri. Esatto, magari noi abbiamo solo un po' di pigrizia e quindi usiamo il tallone, ma per esempio Bebevio è stata una delle prime, Bebevio ad ottenere questa scarpe, le hanno mandata. E cosa ha detto? Mi sembra che anziché metterci 5-10 minuti come fa di solito per metterci le scarpe, ci mette qualche secondi, basta che ci salti dentro. Ha fatto un on-fit simile al nostro. Andate a vedere l'on-fit di Bebevio e quindi, no, complimenti veramente. Brava mamma Nike che continua ad evolversi e a portare queste novità per tutti, per noi, ripeto, pigri e per chi ha veramente bisogno. È un bel programma, a partire nel 2015 comprendeva anche altre scarpe, tra cui naturalmente le Nike Hyperadapt e le Nike Hyperadapt BB, che però lì diciamo era un po' diverso perché comunque dovevi interagire con dei bottoni o comunque con l'app per allentarle. Non era semplicissimo, questa qui è proprio low basic, butti dentro, togli ed è veramente una grande idea. Questo è quello che pensiamo noi della Nike Go Fly Ease. Voglio sapere la vostra opinione, fateci sapere qui sotto nei commenti, ragazzi. E come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!